La scelta del Museo Regionale non è casuale. Il Presidente Rosario Crocetta parte da qui, da uno dei successi della sua giunta, per presentare il nuovo all'assessore della cultura della sua squadra, la nota avvocatessa messinese Aurora Notarianni. La Notarianni subentra ad un altro messinese, il dimissionario Carlo Vermiglio, che il Presidente ha voluto ringraziare pubblicamente per l'attività svolta e l'impegno profuso, gettato acqua sul fuoco delle polemiche divampate le scorsa settimana. Aurora Notarianni, nota per le sue battaglie ambientaliste e per il suo impegno sociale, sarà anche che a capolista del megafono a Messina, in vista delle prossime elezioni regionali, ha lei il compito di portare avanti quanto sino ad oggi realizzato dal collega di giunta e di farlo in tempi strettissimi. Le priorità sono concludere quello che è già in itinere e che va completato e valorizzato. Penso a Messina, alle scalinate, ma penso anche ad andare avanti con un progetto sulla Dogana, che è un po' il mio vecchio sogno, il Covent Garden di Messina, ed è da troppo tempo chiuso. Sì, sono stata in giunta, sono stati approvati dei progetti di cui dirò che erano già esecutivi. L'assessore Vermiglio ha seminato tanto anche sulle vie del tesoro, che è un'iniziativa che può essere ripromossa, ma non solo a Messina, in tutti i comuni ne parlerà meglio di me in conferenza stampa il direttore generale, perché è in qualche modo una sua creatura. Poi devo ancora esaminare bene le sue carte, andrò a Palermo, sarò lì domani e dopodomani, sapete come mi sono catapultata in questa avventura.